Ave Maria, grazia piena, benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ordine della nostra morte. Ave Maria, grazia piena, dominus tecus, benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ordine della nostra morte. Amén. Edo, con la difficoltà che questo popolo sta tendo per trovare lavoro, amore mio. E io sto prendendo gente per tocare queste cose, per la metade del salario. Ma questo non è giusto. Ma è chiaro che è giusto. Nogu'è giusto per niente, amore mio. E così, io baratei il costo di queste cose, capisci? Sì, io entendo. E loro hanno di grazia a Dio, che stanno lavorando di nuovo. Se a gente non consegui vendere i sobradini, dopo di pronto, come va a fare? Sì, 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 sì. Sì, io vorrei aver migliorato, Hortensia. E vamo' ganhar molto d'inheiro, mia mole. Grazie. 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 Ma come andano correndo i nostri negozi in questa casa bancaria? Bene, perché non ho grandi problemi. Ho visto che alcuni banci stanno in difficoltà. Si, si, è vero, amico, il socio comerciano. Ma qui non abbiamo questa preoccupazione. Eh? È un valo empréstimo vencedo e lo che sto esperando al final del mese, per vedere cosa succede. E se questo popolo non pagare? Ah, sì. Devemo iniziare a mettere le barbe di molho. Le mie barbe sono di molho, signor Francesco Mariano. Per favore, per favore. Per favore, come il mercato. È molto spazio, per favore. Oh, amici cedo io vado a la fazenda per vedere come andano le cose per lì. Amico, come il mercato? Perché non vende quelle fazenda? De modo, non. Io ho visto il caffè cazare e subire diversi volte. Livei il mercato. Non ciò, perché non si vengono sul cacare il mercato per le costone. Per esempio, come il mercato. Non ciò che ameri ugliari. Quindi, lo più e che un preci. Non ciò che è abbastanza facile. Invece noi stiamo protegendo le fanno quindi. Per questo, ciò che è un modo di fare. Io mi spero. E' come, il nostro baczo. Ora viaccio, amico, eh?